Vedete un maxi-cao? Gran Turchese ha fatto anche i frullini a cacao. Certo, maxi-cao, maxi-leggeri, maxi-gustosi. Ma dove avete vissuto? Sulla luna? Gran Turchese, morti e il gusto leggero. E questo chi è? Siamo due o solo uno? Scottex doppio rotolo, semplicemente due rotoli in uno. Ahah, ora la mia famiglia non rimarrà più senza. Scottex, cosa non faresti per la tua famiglia? Tutto quello che avete sempre desiderato fare con la vostra dentiera, oggi potete farlo. Grazie a Orasiv. Orasiv crema adesiva per protesi dentali a forte tenuta, efficace per tutto il giorno. Orasiv in offerta in farmacia nel formato tradizionale gigante. Ora sì, con Orasiv. Ma quella è una valigia o un tollei? No, è uno sciatto. Allora tu sei un'astronauta. Roncato shuttle, scopri i nuovi colori dell'estate. I miei atleti li conosco bene. Per questo so che il deodorante giusto è nuovo Infasil tripla protezione. Regola la sudorazione. È clinicamente testato per essere delicato. E tiene freschi a lungo. Anche i deodoranti, come tutti i prodotti Infasil, sono... ...testati sull'estate. Coppa Oros a Montana. Ogni lasciata è persa. How lovely you are. Risoflora. Per ogni tuo piatto il sapore che non scuoce. Fai ballare il tuo cellulare con il ritmo caldo della Hit Parade. Se sei un cliente di Movoda, poni via un sms con un numero da 1 a 10 al 48492. E adesso, tutti in pista. Quando la flora intestinale perde il suo equilibrio... Enterogermina. Enterogermina è ricca di microorganismi che arrivano tutti vivi e vitali nell'intestino... ...per ristabilire l'equilibrio e l'armonia. È un medicinale? Leggere il foglio illustrativo. Stasera, pizza con le amiche? O cenetta con Marco? Carefri Flexiform per mutandine normali e tanga. E oggi apri e vinci subito migliaia di completini slocchi. Mi fanno fallo. A un minuto dalla fine. Batto io. No, tocca a lui. Era il più piccolo, ma in campo era il più grande. Uno alla Ringo. Ringo. Tanta crema golosa tra un biscotto bianco e uno nero. A merenda. Vince Ringo. Ringo. Ma come si fa a scendere altra cosa? Uè, quasi raddoppia tutto. E oggi ho bevuto solamente acqua. Passa a Tim e raddoppia. Avrai 100% di traffico in più se attivi un Timmy o una Timcard. E si chiama il gestore. Mantieni il tuo numero. Che brutta faccia che niente.